Vi presento il terreno di gioco su cui ho mosso i primi passi. Qui ogni giorno scendono in campo registi di tradizioni uniche. Ancora la campagna non è nota, sarà nota praticamente da domani, quindi l'effetto entusiasmo lo notiamo e sicuramente anche l'effetto interesse. E poi speriamo veramente incrociando le dita che si potrà pure misurare un effetto per notazioni. Però oltre all'effetto per notazioni la speranza è che la nostra regione possa essere meglio identificata e soprattutto riconosciuta e riconoscibile intorno all'offerta che noi possiamo proporre al mercato nazionale e internazionale. Perché abbiamo il potere di creare emozioni, possiamo far urlare di gioia, possiamo far spalancare gli occhi, possiamo far innamorare. Siamo pronti per una nuova stagione.